L'assessore al turismo per la regione Sarda si congratula con Aligi Sassu che espone alla Porta d'Oro di Cagliari. Sassu è nato a Milano ma la sua maggiore fonte di ispirazione è la Sardegna alla quale è legato da antichi ricordi familiari. La mia pittura è nata in Sardegna perché ho dipinto quello che ho visto da ragazza che mi è restato dentro nel cuore. Le cose più importanti che ho fatto sono la chiesa del Carmine a Cagliari, un grande mosaico e poi una grande pittura murale a Tiesi, il paese mio di origine e l'affresco della miniera Monteponi. 46 sono le tele esposte alla Porta d'Oro, quasi tutti quadri ad olio, tra le opere migliori della più recente maniera di Sassu, Ragazza di Pavia. I cavalli corrono sulle rocce, il cavallo e l'incendio, il toro nell'arena.